ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare magnesite volkem srl ultimo aggiornamento 25 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso ingredienti tabella nutrizionale a cosa serve magnesite un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali e commercializzato in italia dall'azienda volkem srl informazioni commerciali titolare volkem srl concessionario volkem srl categoria di appartenenza integratori di minerali forma farmaceutica compressa confezioni magnesite magnesio 100 per cento rda 60 compresse indicazioni integratore alimentare di magnesio ha un effetto benefico nel mantenimento nella norma di numerose funzioni fisiologiche equilibrio elettrolitico per esempio nelle attività sportive di resistenza o multi sprint metabolismo energetico trasmissione nervosa e contrazione muscolare inclusa quella del muscolo cardiaco moltiplicazione cellulare metabolismo osseo salute dentale sintesi proteica riduzione della stanchezza della fatica performance mentale ovvero quegli aspetti delle funzioni cerebrali e nervose che determinano capacità di concentrazione apprendimento memoria e ragionamento funzioni psicologiche come quelle cognitive e affettive i sintomi di una carenza di magnesio possono essere debolezza muscolare fatica nausea perdita di equilibrio depressione psicosi irritabilità o stato confusionale modalità d'uso 1 3 compresse al giorno ingredienti magnesio carbonato ph eur coadiufanti e 460 i cellulosa micro cristallina e 414 gomma acacia e 470 b magnesio stiarato vegetale e 553 b talco e 551 silicio biossido non contiene fonti di glutine lattosio zuccheri o dolcificanti conservanti coloranti tabella nutrizionale magnesite 2 compresse valore energetico 0,5 cal 2,2 k lunga carboidrati 0,0 g grassi 0,0 g proteine 0,0 g magnesio 375 mg 100 per cento rda fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato